La busta paga si divide in quattro parti, testata, elementi della retribuzione, corpo e piede della busta paga. Nella testata troviamo l'anagrafica dell'azienda, ragione sociale, codice fiscale, numero di posizione IMSS e INAI. L'anagrafica del lavoratore, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, inquadramento contrattuale, data di assunzione e posizione lavorativa. Negli elementi della retribuzione troviamo la paga base, prevista dal CCNL di riferimento, eventuali elementi concordati tra il lavoratore e il dottore di lavoro e il totale lord orario della retribuzione. Nel corpo della busta paga sono presenti gli elementi mensivi della retribuzione, che ricordiamo essere variabili ogni mese, i contributi previdenziali trattenuti dalla retribuzione, il trattamento integrativo di cui abbiamo già parlato in un altro video, ferie, roll ed ex festività maturate, godute e residue. Infine, nel piede della busta paga vengono indicati l'Iban, del conto su cui il lavoratore vuole ricevere lo stipendio, le detrazioni dal lavoro dipendente, di cui abbiamo già parlato in un altro video, il totale delle trattenute, il totale lordo mensile e lo stipendio netto ricevuto. Per comprendere meglio la struttura della busta paga, scarica il PDF e scopri tutte le sezioni dettagliate. Grazie. Grazie.